Salve a tutti amici tuberts e bentornati dal vostro Gatorage Rosso 94 e benvenuti in questo nuovo video riguardante il tema del calciomercato visto che ieri sia per voglia ma soprattutto per tempo non sono riuscito a portarvi il consueto video della giornata ho deciso che questo giorno sarà un po' particolare perché dato che ogni mercoledì vi parlo di calciomercato oggi ci hanno non uno non due ma ben tre video legati a tre giocatori che potrebbero arrivare o andarsene via alla Roma diciamo legati comunque sempre all'ambiente giallorosso in questo primo video parliamo di Emanuele Giaccherini un esterno in questo momento in forza a Napoli che potrebbe rinforzare l'attacco della Roma per la fine di questa stagione è un affare che già di per sé non è molto facile perché comunque parliamo di due squadre concorrenti in campionato il Napoli ha soltanto meno tre punti rispetto a noi quindi diciamo che siamo comunque lì e di principio il Napoli non vorrebbe andare a rinforzare una diretta concorrente d'altro canto però bisogna anche dire che Giaccherini con il Napoli sta trovando veramente pochissimo spazio soprattutto per via del fatto che gli attaccanti titolari e anche la prima riserva sono più forti di lui parliamo di gente come Insigne, Callejon, Mertens, soprattutto il Mertens degli ultimi tempi questi giocatori non gli si può assolutamente togliere il posto e diciamo che Sarri è un allenatore che spesso fa giocare i 11 titolari e basta e fa soltanto qualche cambio a partita in corso però veramente è una cosa molto rara di conseguenza Giaccherini è venuto a Napoli per ritagliarsi un po' di spazio ma in realtà finora lo ha trovato ben poco e quindi se la Roma vuole prendere realmente questo giocatore può diciamo far forza su questa cosa sul fatto che il giocatore gioca poco e che con noi visto soprattutto i tantissimi infortuni che ci hanno colpito potrebbe trovare sicuramente più spazio parlando più che altro della mia opinione su questi giocatori io penso che sia una buonissimo gregario sia una buonissima riserva che ti può dare comunque il suo contributo una volta entrato in campo non è certo a livello dei titolari ma le riserve così devono essere noi non possiamo pretendere di prendere un altro giocatore davanti che sia dello stesso livello dei titolari è una cosa pressoché impossibile oppure ci devi spendere tantissimi soldi se noi invece vogliamo prendere un giocatore low cost che ci dia comunque un discreto contributo per me Giaccherini è l'ideale perché ha un ottimo dribbling ha una buonissima velocità ha anche un bel tiro dalla distanza perché comunque ricordo soprattutto col Bologna che aveva fatto tantissimi gol molto belli dalla distanza alcuni anche su punizione quindi diciamo che avremmo anche un giocatore bravo a segnare le punizioni quindi nel complesso è un giocatore che a me piace un giocatore che mi piacerebbe vedere con la maglia della Roma come vi ho detto però non è facile perché il Napoli nonostante lo fa giocare poco comunque non vuole rinforzare la Roma l'abbiamo visto anche con gente come Perotti ed El Charawi che in teoria non dovevano rinforzare in nessun modo la Roma anzi l'avevano indebolita in realtà sono stati la forza principale per farci arrivare terzi alla fine della scorsa stagione diciamo che per quanto riguarda Perotti è una cosa un po' diversa perché Perotti era titolare inamovibile anche con il Genoa mentre invece Giaccherini con Napoli non gioca praticamente quasi mai però la differenza è che Genoa e Roma non si stavano giocando niente mentre invece Roma e Napoli attualmente si stanno giocando un posto davanti e il Napoli non vorrebbe che magari Giaccherini diventi un grande giocatore con la Roma magari che gli segni pure al ritorno di Roma-Napoli e in questo modo così la successione diventerebbe molto sofferta per il Napoli perché comunque ci avrebbero perso molto quindi io lo considero un affare non facile perché da come dicono già il Napoli non ha affatto grandi aperture su di lui però ci si potrebbe fare un tentativo in particolare non lo so magari si può soffrire un po' di soldi, un prestito con diritto di riscatto tanto ormai le opzioni sono tantissime ormai noi finora abbiamo perso tutti con prestito con obbligo, prestito con diritto quindi potremmo usare questa operazione anche con lui però comunque questo dipenderà soprattutto dal Napoli se il Napoli accetterà il fatto che può comunque giocare davanti senza Giaccherini e finora mi pare che comunque ci sono riusciti bene si potrebbe parlare di una cessione alla Roma qua secondo me troverebbe il giusto spazio non è certo un sostituto all'altezza di Salah anche perché come caratteristiche sono un po' diversi perché Giaccherini magari è meno individualista diciamo che ci pensa un po' di più prima di fare le cose è meno imprevedibile però è più pratico se così si può dire perché Salah è imprevedibile però a volte diciamo che la sua imprevedibilità diciamo l'hai in coscienza se così si può dire gli portano a fare anche qualche errore davanti quindi in conclusione Giaccherini è un giocatore che mi piace e se dovesse venire a Roma sarebbe veramente molto contento certo però non ci dovremmo spendere una cifra troppo eccessiva perché sennò sarebbe uno spreco di soldi quindi se si parla di che ne so 3 milioni per il prestito più altri 6-7 per il riscatto sui 10 milioni sicuramente sarebbe un'ottima cifra considerando che sarebbe allo stesso tempo anche il sostituto di Turbe che abbiamo pagato il triplo dei soldi sarebbe sicuramente un'ottima operazione fatemi sapere voi nei commenti invece cosa ne pensate se per voi sarebbe un buon acquisto oppure se sarebbe un acquisto inutile noi ci vediamo presto per il secondo video di Calciomercato che riguarderà ancora una volta un possibile arrivo un possibile per modo di dire arrivo in casa giallorossa mentre invece l'ultimo sarà legato a una possibile cessione a dopo ragazzi e sempre Forza Roma